Ora voltiamo pagina e visto che parliamo di tecnologia vediamo questo servizio, si tratta di un meeting organizzato da Jaguar per quanto riguarda l'AVD All Wheel Drive che sta per 4 ruote motrici e nel servizio Marco Cereda ci racconta tutta questa particolare tecnologia che viene impiegata nei diversi modelli Jaguar. L'aggiunta della trazione integrale AVD aumenta ulteriormente il fascino delle nuove Jaguar XF, F-Pace ed XE massimizzando le prestazioni con i benefici in termini di guida dovuti alla trazione supplementare soprattutto in condizioni avverse. Questi tre modelli Jaguar utilizzano un sistema AVD con torche on demand caratterizzato da un ripartitore dotato di frizione multidisco a secco e di una trasmissione a catena verso l'asse anteriore. È un sistema ad azione molto rapida e può effettuare il passaggio da trazione posteriore a 4 ruote motrici in soli 165 millisecondi. In normali condizioni di guida tutta la coppia del motore viene inviata all'asse posteriore mantenendo una dinamicità di guida tipica di questa tipologia di trazione e garantendo che la percezione al volante rimanga inalterata. Il che non sarebbe possibile con la trazione integrale permanente. Il momento e la quantità di coppia da trasferire vengono determinati dall'Intelligent Driveline Dynamics IDD, una tecnologia di gestione molto sofisticata, sviluppata e calibrata interamente da Jaguar, è utilizzata per la prima volta sulla F-Type AVD. Utilizzando i dati dei sensori relativi alla velocità di imbardata, all'angolo di sterzata e all'accelerazione laterale della LIDD, stima continuamente l'attrito tra gli pneumatici e la strada e anche la quantità di aderenza disponibile che viene sfruttata ad ogni contatto con il suolo. Questo sistema intelligente è in grado di impiegare strategie di controllo sia preventive che reattive. L'IDD è anche collegato in rete al sistema Dynamic Stability Control, DSC, al sistema Torque Vectoring e al Jaguar Drive Control per rendere il sistema AVD ancora più efficace. Se l'IDD prevede che l'asse posteriore si stia avvicinando al limite dell'aderenza disponibile, la coppia verrà trasferita all'asse anteriore. La coppia può anche essere trasferita all'asse anteriore per ridurre il sovrasterzo nelle curve veloci, fornendo uno smorzamento dell'imbardata. Ora ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e tra poco ritorniamo con la puntata numero 16 del 2016 di Motor News e vedremo dei servizi della sportiva Nissan, la GTR e Rally Cross con Peugeot e l'andamento di una gara che si è tenuta in Gran Bretagna e infine la sicurezza in moto con BMW Motorrad. A tra poco.